Dovunque sono andato negli ultimi sei mesi e con tutti gli accademici che ho incontrato e politici, l'unico argomento era oddio cosa succede ora con la fine del quantitative easing. Allora di fatto quello che succederà è che la fine del quantitative easing potrebbe porre una questione nella testa degli operatori, cioè di chi sta sul mercato. Il debito pubblico degli stati e l'eurozona è ancora garantito oppure no? Perché adesso di fatto la BCE ne sta acquistando in 60 miliardi al mese, dopo sarà ancora garantito. Allora quindi quello che bisognerebbe chiedere, che secondo me prima o poi dovrà succedere, sarà che Draghi di nuovo interverrà e dirà di nuovo whatever it takes, cioè faremo tutto il necessario per salvare l'euro. La cosa interessante è che però, siccome lo spauracchio è che dovete rispettare assolutamente le regole di bilancio, perché se no i mercati inizieranno a fare i famosi attacchi speculativi e quindi venderanno in massa i vostri titoli, il punto politico da chiedere secondo me alla BCE è che tu devi garantire in maniera esplicita, quindi o per iscritto o, in modo migliore sarebbe per iscritto, il debito pubblico. In questo modo anche con la fine del quantitative easing non ci sarebbe panico sui mercati, ma non è detto che Draghi lo farà, per cui vi parlo anche di una soluzione che noi abbiamo elaborato nel caso in cui Draghi non dovesse inserire di fatto questa garanzia in maniera esplicita, non lo dovesse fare neanche in maniera implicita, magari ribadendo salveremo l'euro. E allora abbiamo pensato di poter riutilizzare uno strumento che era già stato pensato in realtà nel 2012 per un vecchio problema e applicarlo a un potenziale nuovo problema che si chiamano Mosler Bond. L'idea è semplicissima, in due minuti e un minuto ho finito, inserire dentro i titoli di Stato che vengono emessi dai vari governi una semplice clausola in cui si sottolinea questo. In caso di default, cioè in caso di mancato pagamento, questo titolo di Stato potrà essere utilizzato al suo valore nominale quindi al prezzo in cui tu l'hai acquistato inizialmente, per pagare le tasse al governo del paese specifico. In questo modo che cosa succederebbe? Che immediatamente sui mercati verrebbe meno la percezione del rischio che quei soldi potrebbero non tornare indietro perché nell'eventualità in cui il pagamento non fosse fatto dal governo comunque quello sarebbe di fatto denaro perché ci saranno un migliaia, milioni di soggetti che saranno disposti ad acquistarlo per pagare le tasse al governo. Quindi di fatto questo è un meccanismo che previene il rischio default, semplicemente dicendo che in caso di default questo titolo potrà essere utilizzato anche per pagare le tasse. Il vantaggio secondo me è interessante ed è soprattutto in questi punti qua. Chiaramente terrà molto più in basso i rendimenti e quindi anche i valori dei titoli di Stato che sono detenuti oggi magari anche dalle banche le assicurazioni eccetera in maniera minima delle famiglie saranno più stabili e quindi si eviteranno delle perdite derivanti da rendimenti che salgono verso l'alto ma c'è un punto secondo me politico che è questo qua, cioè il discorso è il moral hazard. Ciò da cui sono ossessionati soprattutto gli economisti tedeschi e soprattutto chi lavora dentro la banca centrale è che di fatto i governi degli altri paesi non rispettino le regole e iniziano a spendere in maniera dissennata e nel momento in cui poi si andasse incontro a un fallimento, a un default, i contribuenti tedeschi siano poi chiamati a pagare come è successo per esempio con la situazione della Grecia. Poi notizia di oggi, peraltro la Germania sta incassando più di un miliardo di interessi sui prestiti alla Grecia. Weidman, presidente della Bundesbank, ha fatto una proposta tre mesi fa, ha chiesto di inserire una clausola sui titoli di Stato dei paesi dell'Eurozona, non ne ha parlato nessuno ma se andate a cercarla sul sito della Bundesbank la trovate. La sua proposta è in caso di default, cioè in caso di mancato pagamento su un titolo di Stato dell'Eurozona prevediamo in questa clausola che il pagamento verrà effettuato tra tre anni. Quindi la loro idea è io voglio assolutamente evitare che i miei contribuenti siano chiamati a dover pagare. Allora se l'idea è ti pago tra tre anni, una soluzione è molto più semplice che poi mantiene in capo la responsabilità ai singoli governi e inseriamo questo tipo di clausola sul titolo di Stato che peraltro può essere anche retroattiva quindi si può proporre uno swap sui mercati, ci sono mille modalità per farlo, si può inserire una legge che abbia valore retroattivo inserendo questa clausola di fatto noi non stiamo chiedendo se facciamo default agli altri di darci una mano no, l'Italia sta dicendo se facciamo default i miei contribuenti, quindi i contribuenti dello Stato italiano avranno comunque in mano quel denaro disponibile e utilizzabile che loro mi hanno dato per acquistare il titolo di Stato. Penso che questo tipo di clausola sia molto più accettabile ad esempio per la Germania dove l'idea di fondo è una e una soltanto, le regole vanno assolutamente rispettate e noi non vogliamo essere chiamati in causa per il vostro mancato rispetto di regole o per i vostri problemi.